Ciao a tutti! Io sono Tepaola e io sono Elisa e oggi siamo qui per rinforare la suona del brano photograph di Ed Sheeran con il fiato l'olce. Questo video è diviso in due parti, più precisamente nella prima parte andremo a spiegare quelle che sono le note più difficili da eseguire, mentre nella seconda parte andremo appunto ad eseguire il brano. Quindi, diamo l'inizio al video! Nel corso del brano troveremo spesso la presenza di questa nota che sta ad indicare il si bemolle e può essere svolto in due modi. Questo è il primo modo che genera un suono acuto, mentre questo è il secondo modo che, come possiamo sentire, genera un suono leggermente più grave rispetto al primo. Ed è proprio questo il tipo di si bemolle che andremo ad utilizzare nell'esecuzione del brano. Un'altra cosa molto importante è il passaggio dalle note alte alle note basse, come ad esempio dalla nota do alto alla nota sol. E questo è il passaggio. Oppure, ad esempio dalla nota la alla nota do basso. E questo è il passaggio. E adesso eseguiremo il brano! E questo è il passaggio. E questo è il passaggio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.